Cari amici di Zitalian, eccoci ad un nuovo episodio. Oggi chiederemo agli italiani cosa amano mangiare di più e cosa non può mancare dal loro frigo. Andiamo! Ciao! Cosa ti piace di più mangiare? Pasta al forno. E con le polpettine o senza? Polpettine. Orecchietto al pomodoro. Prediligo la pasta al secondo, alla carne. Diciamo che quello che più mi piace sono pasta e cibi di rapa con un po' di ciughe sopra e la mollica grattugiata fritta. Spaghetti e frutti di mare. Per lei? Concordo, sì. Le orecchiette con le cibi di rapa. A me piace molto la pasta con il pesce. La pasta alla pizzaiola. Pasta alla pizzaiola. Com'è questa pasta alla pizzaiola? È buonissima. E quali sono gli ingredienti? L'olio, il sugo, la mozzarella, l'origano e la pasta. Cosa non deve mai mancare nel suo frigo? L'acqua. Sicuramente l'acqua perché non sono un bevitore di alcolici o altro. Il latte per prenderlo la mattina e basta. Per il resto, io mangio per vivere. Fino a qualche mese fa il formaggio. Ora per questioni di dieta l'abbiamo un attimo. Esatto, il frigorifero è vuoto. Formaggi, frutta, verdura. Il latte? Il latte. Non lo so, non deve essere vuoto. Direi il formaggio fresco, anche il yogurt. La cioccolata. Però non sta in frigo, però è la cioccolata che non può mancare mai. La nutella e la cioccolata. Nutella, sì, non manca mai. E il pesto? Cosa sapete cucinare meglio? La pasta. La pasta. Cucino meglio la lasagna perché la cucino spesso e mi piace cucinarla. Spaghetti al pomodoro. Solo l'uovo fritto. Chi è che cucina a casa? Le mie voglie. Fondamentalmente non mi piace cucinare. Diciamo, la cosa che faccio spesso è pasta con i legumi. Quali? Lenticchie. Lei sa cucinare? Qualcosa, sì. Qual è il piatto che cucina peggio? La lana tra l'arancia, che sarà difficilissima da fare, non lo so. Fare, diciamo, i dolci. I dolci non so fare. I dolci vanno tutti in crisi. E non ci provano più. Ma le cose complicate, quelle mi escono male. Non sarei in grado di fare una lasagna o il pesce forse. Non mi cimenterei proprio. Qual è il piatto che ti cucina tua mamma, che ti piace di più? Pasta al forno. Pasta al forno. Bene, grazie mille. Arrivederci. Grazie mille. 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 Grazie a tutti